Ciao a tutti, gente di Youtube e benvenuti in questo nuovo video, io sono Minscroft98 e oggi siamo ancora su Tomb Raider Perché devo portarla avanti in questa serie e anche completarla direi che dopo un bel po' di tempo Quindi, confichiamo la freccia e andiamo avanti, ma mi sa che sta parte l'ho già registrato Qui niente di strano, qua su non troveremo nessuno Oh, qua su non troveremo nessuno, dici? No, non c'è nessuno qui Io raggiungo gli altri giugno aereo, tu continuo a ispezionare le rovine Ispezione, ispezione Tanto noi ci confichiamo un arco nel ginocchio Altro che le frecce del ginocchio, quelle sono fuori mother Ormai l'arco del ginocchio è la nuova moda Effettivamente anche in Thief c'è l'arco Anche in Tomb Raider In Dishonored non penso che ci sia l'arco Buongiorno Hola Come sta? Tutto bene? Sì, ovvio No, ma non si muove Ok E uno è in lato Taradan A posto Tu pure quindi ci continuo Di experience Bu 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 Perciano Brutti Inquantri Conoscendo la fortuna di lare in questo Tomb Raider meglio che sto zitta e... Secondino C'è qualcuno in ascolto? Rock! Rock! Eccomi Reyes, come siete messi? Di me Abbiamo seguito degli uomini in una specie di città E' gente fuori di testa rock! Cosa stanno facendo qui? Non lo so E forse non voglio sapermi C'è un po' sull'arco Non ancora Tu sei con l'arco Sì, presto scenderemo a valle per venirvi incontro E conserviamo l'ombro di Lara Croft Sulla roccia Attenzione L'arco Sulla roccia Mi ho calcio un po' la voce Visto che nel gameplay Ho notato che non si sente tanto la mia voce Sì, dobbiamo tornare 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 Sì, poi E' occhio, ma non ho tutti prezzi molete No Come non giocare Quando una ragazza non sa sparare Non sa proprio sparare, ragazzi Ah, mi devo esercitare al meglio Mi devo esercitare al meglio Quindi ho già visto Ah, mi ammazzo così Tanto per essere coerente E anzi, quasi quasi Visto che sono morta Mi fuggio la roba che non ho preso Quindi questo 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 Bastardi Esatto Se avete sentito No Sennò poi lo toglierò Staparte Molto qua va bene Invece lo toglierò Perché non si sarà sentito Quello che ne va bene Allora Ahia, lo devi dire Lara Ahia Ahia, hai fatto Ciao Si, vieni la mitraglietta al faccio Quanto bello Ecco il segnale Ogni volta che metto l'arco Ovviamente Non posso non chiusarlo qui, jump on this rope e no rope, no no, ladder e le scale cord, jump discord e apparent concord, discord, apparent dai, dobbiamo tornare dacci, lasciami finire e te 64 chiamate qualcuno ma mori tutta mi rovina tutto un'altra piaccola accendo eh, essere così preoccupata allora cosa può succederti? il massimo può morire dai pensa positivo qui c'è la nostra consola messa bene mi dicono può esserci qualcuna? no? perfetto oh, intanto ci stiamo appropinquando quindi qua, così per avvicinarsi a questo fumo blu per salvare il capitano Jessop capitano Jessop speriamo che ne vaga la pena perché se dobbiamo fare fare la stessa fine del capitano capitano Tizio del Caio e Sempronio siamo messi bene ma ditemi mi sta piacendo come si sa anche tutte le altre ovviamente non dico solo Tomb Raider perché non esiste solo la raccolta al mondo sai, non esiste solo la non esiste solo la raccolta al mondo è difficile a dirlo però ci sono tanti altri bei giochi e tanti altre belle cose da fare nella vita per tutto sto che giocare video giochi sono in vacanza sono in vacanza i disciutti mi registrano in taci così stai entrando in quell'audito ok salem 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 facciamo un bel avvast 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 potete stare ragazzi andiamo arrivare per raggiù perché questo ventolo mi spira andiamo avanti scusate se mi andate un po' a ridento con questi gameplay io andrò avanti soprattutto in questo e Underworld Assassin's Creed si e anche Minecraft soprattutto lo devo puntare avanti visto che però Animan e Minerdex hanno già finito la Animan però la Omidex quindi cioè loro hanno avuto l'hanno registrato una volta al giorno avendo solo quella serie principale e altre due al massimo io invece ne ho avuto un po' sto aprendo sto più aprendo serie che concludendo quindi capitano Gessop ovviamente non c'è dove è andato? capitano Gessop non c'è eh non c'è qualcosa da recuperare qui no ok andiamo avanti nella speranza di trovare i nostri amici e il capitano Gessop capitano Gessop capitano Gessop che scivolo eh beh tranquilla perché si sta abituando ci ha detto tutto tranquilla troveremo un altro modo per andarcene dall'isola ok dai dai pensiamo positivo no eh sembra è in una specie di antico palazzo giapponese ho un brutto pesantimento addosso ma no non preoccuparti si starà facendo un giretto racconta ne un'altra Alex fate attenzione nella tenta si oggi mi frivizzano giochi non so per coniglio non so per coniglio vediamo se c'è qualcosa da recuperare si una tutta beta che che sarà questo perché io praticamente non vado a quello che ho recuperato ma è a percentuali praticamente questo l'ho completato al non so quanto per cento 12% devo completarlo anche questo qua tutti devono essere più o meno pari vediamo se nel nervo c'è qualcosa di dispari 10 10 20 quindi protenzierò uno dei due la prossima sarà la pistola vero potenzialmente ovviamente siamo avanti con una lara che stranamente corrente veloce buongiorno lara ti sei svegliata bene stamattina quindi andiamo avanti andiamo avanti alziamo la voce se no non si sente probabilmente sarà l'unico video in cui vi assorderò c'è un'epoca l'epoca c'è un'epoca c'è un'epoca c'è un'epoca c'è un'epoca guardate che belle le ambizioni quando vogliono farle bene le fanno bene questo c'è da dire avendo anche una grafica abbastanza minima sta c'è un'epoca incredibile eccolo lì bello scheletro ma noi portiamo sfiga a tutti però e andiamo dall'altro capitano e gli viene complicata una spalla capitano gesso poi gli esplodono e roba addosso ma sei po' oh Lara ti sei mangiato pane sfiga stamattina e anche tutte le altre mattine cioè tanto vero ma sei ingenuo e prevedibile ancora qua pace cresce mi sono abituata a dolce gli ioni sono qui eh gli ioni gli ioni mi spò gli ioni positivi non è che la roba scientifica non c'entra niente con Lara Croft dettagli dai io ci ammazzano vero quindi la gente davanti a noi tanto dicono quella dorme si si mi prendo la schiena qui insomma ti mancano niente quindi andiamo avanti che belle scene Lara ti trovi sempre nei posti più allegri tu eh sì allora a 60 minuti andiamo avanti mi dondoliamoci appropriamo ok su e giù e biribiri biribiri birish bec quella cardelara che fatte male come se non ci fosse un domani vai di testa mi sembra giusto qualcos'altro che deve accaderci ma ci hanno ancora rubato le armi andando per sapere cosa sta succedendo eh perfetto ah gli erano un po' scipudellato eh gli scipudellamenti che succedono i capitani quattro apparello quindi andiamo avanti dell'era mi sembra molto facile che cazzo oddio che è successo ok la visuale sta andando a puttare ve lo dico che è retorno un po' un 360 alla visuale bella tranquilla ah eh che bello io potevo fare questa come speciale horror eh eh effettivamente che serba salve sono venuta solo di passaggio stai tranquillo ovviamente se voglio indietro mi spappola il cervello tanto per dirmi guardi bene quello scheletro allora quindi andiamo avanti teste che rotolano un'obraccia massi approfittiamo che questa ragazzina non deve ancora essere traumatizzata il giusto no? e quindi mi ammogli ok ma c'è non c'è delle armi no ma sono gentili allora sono dei bravi fuori derubato che rubano molto bene la gente tipo ti abbiamo una peta ma ti abbiamo lasciato il fucile un arco e una pistola ti è un mitro un arco e una pistola ti sei all'arte che vuoi appropingare ma non c'è di muovere la pistola non è che ogni volta che ti fa male la pancia se ricerca ogni volta di vi lamentarti con noi spero funzioni ancora ok fucile da trincella si che da funziona siamo continuati noi eh mi stanno cercando sapere vero ssaper oh non strogliete che è una caffia vera sconti odio le tombe provo a dire ancora odio le tombe è mia presenza guarda finisci sbattuta sull'astrico neanche di peggio Squartata da Ioni Mi amico Era tombata davvero? Ok Guarda questo è il sole Questa è mia patata Scusate ragazzi Se la parte dell'antenna è brutta di merda C'è con un audio orrendo però Non l'ho fatto apposta Tutto la sottoscisce perché annusa Il profumo O dei Mico Inventi tenei milioni di negozi di tombe Incredibile Di tombe? Assolutamente Ok Intanto Lara esplora come una vera archeologa Finalmente Sembra un rituale del fuoco Una specie di sacrificio Insacribile Perché le donne venivano messe a roco? Le donne venivano messe a roco Perché erano delle cattive persone E' uno streghe Che sia questo Sì Versa dell'acqua Versa dell'acqua Avrà sete Versa dell'acqua C'avrà sete All'altra va sete Gli versano l'acqua nel bicchiere Beve Così succede La persona normale Regina No Aspetta No No Non sta versando Sta cedendo il potere È un rito di successione Va bene Wow Zan 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 Dalla padella Alla padella Alla padella Prima che andiamo i discorsi Come io non parlare Ok Ok Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Cosa 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 Profumo di rosa ma rosa non è Lara Croft E direi che per questo video è tutto Ciao a tutti ragazzi